Sangue nelle strade di Torchiara nelle prime ore di oggi dove è stata accoltellata una ragazza moldava di 18 anni. Il suo aggressore è stato prontamente individuato ed arrestato. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che l'aggressione sia dovuta ad un alterco tra i due, verosimilmente per futili motivi, poi dalle parole ai fatti. Purtroppo con il ferimento della giovane moldava di soli 18 anni. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, ma per fortuna i fendenti hanno ferito di striscio la giovane che, trasportata all'ospedale di Vallo, è stata prontamente curata dal personale sanitario con una prognosi di 15 giorni. Grazie all'indagine dei carabinieri l'aggressore è stato subito bloccato ed individuato e adesso dovrà rispondere degli atti commessi innanzi alle autorità competenti.